Mi diverte mettere sul mio canale queste notizie che di tanto in tanto mi capita di trovare su internet. Questa volta si parla di gatti con le ali e sembra che sia qualcosa di reale, quindi non una fantasia o una leggenda metropolitana. Infatti alcuni gatti della provincia meridionale cinese del Sichuan hanno sviluppato delle protuberanze sul dorso simili alle ali. I proprietari attribuiscono uno strano fenomeno al caldo estivo ed afoso e all'alto numero di gatte in calore che darebbero la caccia agli esemplari alati, sembra tutti maschi, che volerebbero via dalle pretendenti troppo aggressive. Le protuberanze, seppur appaiano soffici, contengono materiale osseo, hanno spiegato i veterinari, e sicuramente non sono adatte al volo. Da un punto di vista scientifico la causa del fenomeno, come sempre, non è chiara, ma certamente non è così romantica, ha da pensare a delle fughe dalle attenzioni femminili. Potrebbero essere difetti genetici, caratteristiche ereditarie del pelo. Le ali abbastanza grandi di questi animali, le vedete nelle foto, non creerebbero problemi alla vita quotidiana dei gatti. Anzi, sembrano essere diventate un'attrattiva in più per certi posti della Cina. Per concludere questo brevissimo video, mi è venuta in mente una frase, un'aforisma di Dick Sean che dice Se fosse possibile dotare i gatti di ali, non si accontenterebbero di essere uccelli, sarebbero angeli. Questo video è dedicato a tutti gli amanti dei gatti. Grazie, alla prossima.